Oggi siamo con Isabella Morbelli, editrice di Shop in the City. Ciao Isabella, grazie per essere con noi. Ciao, grazie a te, grazie mille e sono veramente contenta anche oggi di essere qua con voi a raccontare, che è una roba che mi viene abbastanza bene, perché sono una chiacchierona. Raccontaci un po' come nasce la tua avventura di editrice. Dunque, io nasco in Shop in the City, nasce otto anni fa, in realtà è stata un'idea mia e di mio marito, per cui otto anni fa abbiamo deciso di lanciare un prodotto che su Torino non ci fosse, di cui probabilmente si sentiva la necessità, un prodotto che fosse free, quindi gratuito assolutamente, noi facciamo 30.000 copie a ogni numero, bimestrale, gratuito, che potesse arrivare alla gente, che potesse essere il consiglio di shopping, quindi sfogliabile, in modo da avere notizie di Torino, della città, dello shopping, leggibile proprio, con dei contenuti. Che Torino viene fuori dalle pagine di Shop in the City? Ma Shop in the City è uno slow shopping, viene fuori un po' la Torino che ha voglia di produrre, quindi il gusto dei negozianti che hanno un plurimarca, attraverso i prodotti che loro scelgono delle varie collezioni, mentre ci sono i negozi che effettivamente producono, che hanno linee di bigiotteria, piuttosto che i nuovi stilisti emergenti, che proprio danno il loro gusto dal loro Torino, che poi vestono le torinesi, per cui diciamo che fanno un po' difficoltà a vestire con colori le torinesi, ma stiamo evolvendo, quindi insomma, oggi non ho tanti colori, tu a meno di me, per cui il nero, il grigio e il beige sono molto usati, e poi di lì via via le nuove stiliste stanno portando colore, quindi ecco il gusto di Torino. La vita di Shopping the City, gli ultimi otto anni, coincidono anche con la fase di Torino, in cui si è risvegliata un po', si è scoperta città turistica e anche città meta di shopping, tu hai ritrovato questo cambio di mentalità? Sì, assolutamente, io ho portato Shopping the City, l'abbiamo fatto nascere nel momento in cui, post-olimpiadi, quindi un momento molto florido, necessità di comunicare, anche piacere di dire che la nostra Torino era bella, c'è stato proprio l'Olimpiadi, anche un po' la ristrutturazione della città, causata per fortuna e portata dalle Olimpiadi, ha fatto sì che si scoprisse questa nostra nuova città. Poi c'è stata una crescita, 2009 la grande crisi è cominciata a livello nazionale, sul locale si è andata a sentire, secondo me, un po' di più nel 2011, per cui adesso proprio dire che è difficile raccontare una Torino-Florida, una Torino ricca, però sicuramente abbiamo riscoperto altri valori. Io credo che anche questa crisi profonda ci faccia guardare un po' dentro le tasche, no? Allora siamo andati fino in fondo, in fondo, in fondo, e scopriamo noi stessi torinesi di avere delle bellissime piazze, delle bellissime chiese, dei monumenti storici che sottovalutavamo, a naso in su scopriamo effettivamente, e questo è proprio il caso di dire a naso in su in questo luogo, scopriamo proprio che... Essere un po' turisti in casa propria. Assolutamente, sì. Soprattutto c'è un'indagine che racconta come i ragazzi torinesi giovani stanno proprio maturando la conoscenza della propria città e hanno proprio voglia di comunicarla, quindi si stanno impegnando a studiare molto di più le lingue e a studiare molto di più comunicazione territoriale proprio e a radicare il proprio mestiere su una qualità della città, del paese, della provincia, del Piemonte. Torino è stata la culla di tantissimi settori, l'editoria, ad esempio, Torino ha visto alcune delle sue firme migliori, il cinema, la moda, la televisione, poi quasi tutto ci viene rubato da Milano. Sì, terribilmente vero. Invece questo è anche un tentativo per riportare la centralità su Torino. Sì, credo che questa voglia di territorialità poi ci sia in tutte le città italiane, cioè c'è proprio un po' voglia di circoscrivere, di geolocalizzare, se vogliamo dirla in altri termini, ma proprio di portare a chilometro zero l'acquisto e anche la filosofia a chilometro zero. Cioè, non so, io la vivo un po' per farla spiccia, se io compro da chi vedo tutti i giorni, poi lui mi sorride tutti i giorni. Io vivo meglio, perché c'è il mio sorriso, insomma, stiamo tutti meglio. Quindi la mia filosofia è proprio quella di far contento chi ho vicino, piuttosto di andare a, intanto, a sprecare tempo per spostarmi e poi a dare dei soldi a magari a chi non vedo con un acquisto online, ad esempio. Proprio un po' di monetizzare anche il piacere di confrontarsi sempre con persone che lavorano e quindi sorridere. Questo anche di ritorno all'origine, anche di paesano. Assolutamente, sì. Forse la crisi ci riporta una dimensione più a misura d'uomo. Sono assolutamente di questa idea. La crisi ha fatto riscoprire il baratto, che ne parlavamo, il baratto è una cosa che sta ritornando in un certo senso. Lo scambio, lo scambio di visibilità, lo scambio di idee, lo scambio in generale, non soltanto a livello monetario. Per cui, sì, si torna un pelo indietro. Infatti io con un cartaceo lo sto andando abbastanza bene, perché comunque c'è visibile. Anche tu però ti sei votata al digitale. Assolutamente. Secondo me non possiamo non vederlo, non vedere il fatto che comunque online bisogna avere il sito, bisogna farsi riconoscere. Tra l'altro ci sono due esigenze adesso nei negozianti. Quella di comunque avere un sito, avere un sito ben fatto, visibile, aggiornabile facilmente. E la seconda necessità è quella, nel momento in cui vanno all'estero, magari in fiera a Parigi, piuttosto che anche soltanto a Milano, in alcune fiere, nel momento in cui acquistano delle collezioni, hanno proprio bisogno di far vedere il loro sito e di raccontare la loro azienda attraverso un sito di bella faccia, aggiornato, insomma. Quindi c'è questa doppia funzione della visibilità online per i nostri negozianti. A cui tu hai risposto? A cui ho risposto proprio in questo periodo, stiamo mettendo a punto, più che mettendo a punto, proprio già lanciando, abbiamo già raccolto dieci clienti, che per noi, dieci negozianti, sono proprio la start-up. Questi dieci faranno insieme a noi il nuovo prodotto, che si tratta di un sistema che permette ai negozianti di avere visibilità online attraverso una one page, che è un sito verticale, che si può scrollare, molto leggero, fruibile, quindi assolutamente premiato dai motori di ricerca, attraverso un'applicazione, un'applicazione effettiva del cliente, a tutti gli effetti del cliente, che permette di avere delle attività push, per cui io negoziante posso comunicarti che ho lo sconto oggi su quel prodotto, piuttosto che il posto per la mia attività di servizi, ad esempio parrucchiere, o il posto libero a quell'ora, e quindi ti posso dare un'agevolazione di prezzo. Un sistema che quindi mi permette di aggiornare la one page e l'applicazione attraverso il mezzo che tutti oggi usano, che è Facebook. Per cui io grazie a Facebook, la mia pagina like di Facebook, aggiornandola vado direttamente ad aggiornare questa one page, che è un sito a tutti gli effetti mio, e questa applicazione. Madre di tutto questo, Shopping the City, per cui Shopping the City nel suo sito, nel nostro sito, nella nostra applicazione, daremo visibilità a tutti i clienti che fanno il sistema, che partecipano a questo sistema. In questo momento, in cui tutte le certezze, anche dal punto di vista lavorativo, vengono un po', diciamo, squadernate dalla crisi, e la flessibilità, e la parola d'ordine, anche i negozianti devono mettersi, da questo punto di vista, venire incontro alle esigenze di chi ha degli orari sempre più flessibili, che spesso significa sempre più scomodi, per fare gli acquisti. Sì, questo è un argomento molto difficile, perché ho provato più e più volte a raccontare ai negozianti che se rimanessero aperti fino alle 9, forse riuscirebbe ad aumentare, ma non dipende da loro, dipende ovviamente dai costi del lavoro, oltre l'orario normale, dipende dai contratti, dall'Italia, dipende dal nostro Stato, dal nostro Governo. E' una lunga strada. E' una lunga, lunga, lunga strada. Ma la stiamo percorrendo, arriveremo lì. Sì, in più c'è anche di mezzo una mentalità che non sempre vede i negozianti cavalcare l'evoluzione, cioè questa idea di fare il continuato, questa idea di lavorare la domenica, è sempre stato un argomento molto difficile, ahimè. Però se fossero online, sicuramente sarebbero rintracciati. Insomma, ci sono i pro e i contro, e secondo me ad oggi è funzionale essere su cartaceo online, in televisione, cercare di distribuire un po' la visibilità, cercando di avere maggiori contatti e mirati alle persone giuste poi. La donna torinese, il prototipo di donna torinese, che tipo di acquisti fa? Di pancia, di testa, in quali settori merceologici? No, di testa. Allora, sicuramente la donna torinese acquista di testa. Dalla mia esperienza posso dire di aver visto veramente tante donne di classe, perché la donna torinese ha classe, ha charm, ha anche proprietà intellettive, perché devo dire che quasi sempre la donna facoltosa, o comunque che ama fare shopping, torinese riesce ad essere una donna affermata anche nella vita, e quindi è uno shopping pensato e mirato. È uno shopping che valorizza i negozi che valgono, i negozi capaci di trovare prodotti o di produrli, abbiamo detto, e quindi è una donna difficile poi da accontentare, in effetti, ricercata, che ama vestirsi in modo diverso dagli altri, a cui non fa piacere assolutamente far sapere dove ha acquistato i prodotti, quindi non aiuta. È un male, Non aiuta ai commercianti. A volte si fa arrivare le collezioni direttamente a casa, perché così riesci a vederle in anteprima, da sola, con comodità. Sono vari metodi che ho scoperto nel tempo con mio stupore, perché io adoro invece fare shopping, entrare in negozio e uscire alla... Siamo in chiusura. Tu sei un'amante dello shopping di Tua? Io sono un'amante dello shopping, di uno shopping però variegato. Mi piace comprare un po' ovunque. Variare? E tu dici dove compri. Sono un po' più bizzarra. Sì. Io dico dove compro. Non ce lo puoi dire adesso. Grazie. Grazie Isabella. Ciao.